elezioni parte la corsa marchigiana verso il parlamento guardie mediche e le pd raccoglie firme per ripristinare i servizi mondolfo revocata all'ordinanza sulla salmonella l'acqua torna potabile a fessicità ecco come sta cambiando il clima pesarese è arrivato il self service di benigno che parla in dialetto pesarese buona serata a tutti voi amici telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 80 in occasione del nostro notiziario rossini news telegiornale di venerdì 22 luglio che apriamo occupandoci delle ripercussioni del ritorno alla chiamata alle urne ripercussioni sul territorio marchigiano che comporterà andare alle elezioni il 25 settembre elezioni che potrebbero di fatto cambiare gli scenari di diversi personaggi della politica regionale la crisi di governo le dimissioni di draghi le elezioni fissate al 25 settembre è questa la tempesta perfetta che fa rituffare la politica in due inattesi mesi di campagna elettorale una campagna che declinata le latitudini marchigiane comporterà posti ridotti in parlamento rispetto al passato e poltroni istituzionali occupate ma che potrebbero essere abbandonate per ambizioni di camera e senato sul primo argomento il taglio drastico del numero dei parlamentari deliberato a fine 2020 riduce da 24 a 15 i parlamentari elegibili dalle marche rispetto al passato ovvero 5 al senato e 10 alla camera dei deputati la pil romano potrebbe avere ripercussioni sulla giunta acquaroli visto che nomi come quelli degli assessori mirco carloni e guido castelli sembrano attirati da una strada che sarebbe solo anticipata rispetto a qualche infatuazione futura discorso simile per giorgia latini che già fu parlamentare in passato un'elezione comporterebbe uno scossone all'establishment della giunta acquaroli che nel caso potrebbe essere intenzionato a non riaccogliere gli eventuali candidati non eletti ma le inattese di missioni di draghi potrebbero far rivedere anche i piani di matteo ricci che sta entrando nell'autunno del suo doppio mandato da sindaco e che una volta consultati i vertici del pd potrebbe condizionale d'obbligo intraprendere una clamorosa deviazione dalla fascia tricolore se ne saprà di più nelle prossime settimane che seguono giorni in cui ricci ha enfatizzato la drammaticità della caduta del governo draghi forse alcuni non si rendono conto che è stato buttato giù per motivi politici di bassissimo livello il migliore che in questo momento in italia potevamo mettere in campo quello che ci aveva garantito autorevolezza e forza in europa nel mondo in una fase geopolitica complicatissima con una guerra nel cuore dell'europa voglio vedere adesso chi va a lavorare per abbassare il prezzo del gas chi chi da in europa chi avrà in europa la forza che aveva draghi insomma davvero un disastro per l'italia e purtroppo però ci sono state forze politiche che hanno nome e cognome che hanno fatto prevalere stupidi interessi di parte rispetto all'interesse dell'italia e spero che gli italiani si ricordino quando sarà ora di andare a votare perché ieri ha perso l'italia ha perso l'italia responsabile e ha vinto la come dire la politica di bassa lega che ha in qualche modo giocato sulla pelle di della figura migliore che l'italia poteva mettere in campo c'è una politica che si prepara la campagna elettorale e c'è un'altra parte politica che è impegnata in una mobilitazione territoriale è il caso delle pd di pesaro urbino che da questa mattina ha innescato un tour di raccolta firme per riaprire i presidi di guardia medica che negli ultimi mesi sono stati chiusi o ridimensionati a parte dalla casa della salute e da gabice questo tour sui territori per far capire quanto i territori hanno bisogno del presidio di guardia medica sì i territori hanno molto bisogno del presidio di guardia medica perché come noi abbiamo scritto anche nel volantino che stiamo distribuendo è un quello fondamentale della catena dei servizi a livello territoriale e la mancanza di medici è una responsabilità della giunta di centrodestra perché i nostri consigli regionali fin dallo scorso anno hanno fatto interrogazioni proposte dando anche un contributo non solo segnalando le problematiche ma il presidente acquaroli l'assessore santa martini dallo scorso anno si sono impegnati a fare il contratto ad esempio una delle questioni che doveva essere risolta solamente nel mese di aprile ecco questo ha significato far perdere molti dei medici che erano disponibili quindi noi vogliamo con queste iniziative andare proprio al cuore delle problematiche che sentono i cittadini e mentre altri parlano ecco noi cerchiamo di stare vicino alla gente di coglierle gli aspetti delle problematiche e poi riportarle in sede politica in sede istituzionale per fare in modo di risolvere queste questioni iniziamo oggi da montecchio poi saremo a gabice più tardi e proseguiremo in tutte le diverse cittadine della provincia di pesaro urbino in cui sono state chiuse le postazioni di guardia medica totalmente o parzialmente siamo arrivati a 10 come un domino la giunta acquaroli ha iniziato chiudendole una ad una da montecchio fino arrivare a fano a mondolfo chiusa totalmente poi addirittura corpando mondavio e pergola urbana in queste ultime settimane sono stati ridotti i turni e a gabice fortunatamente fino al 31 agosto è aperta solo la guardia medica turistica ma poi sarà di nuovo buio totale chiediamo che non si risparmi più sui compensi ai medici di continuità assistenziale come avvenuto in questi due anni di giunta acquaroli chiediamo che si intervenga al più presto per abbattere le incompatibilità ovvero per mettere anche ai medici in pensione di continuare a lavorare laddove lo vogliano perché in questi anni in attesa che arrivano e arrivino i medici attualmente in fase di specializzazione è indispensabile trattenere quelli che possono dare un aiuto per non chiudere i presidi di guardia medica come del resto stanno facendo le altre regioni ricordo che quando governavamo noi questo servizio c'era dappertutto quindi non si può dire che è colpa del centro sinistra quando c'era il centro sinistra le guardie mediche c'erano oggi invece che ormai ed è oltre un anno questo servizio non c'è bisogna che chi governa si assuma le proprie responsabilità dall'altra parte la cosa molto grave è che i contagi è vero che questi giorni proprio sembra che stanno calando ma in realtà i numeri sono veramente molto importanti e noi ancora ad oggi a livello regionale non abbiamo riattivato il servizio delle usca le usca sono quel servizio medico che andava direttamente a domicilio cioè i medici che andavano a visitare le persone colpite del covid quindi che avevano bisogno di un'assistenza domiciliare oggi nelle marche siamo praticamente sprovvisti di questo servizio su 19 usca a livello regionale che c'erano fino a qualche settimana fa ce ne è rimasta solamente una come sindaco abbiamo inviato oramai decine di lettere per quattro cose fondamentali la prima è il ripristino della guardia medica il secondo il ripristino dell'apertura sabato mattina terzo diciamo la necessità di fare tutti i vaccini dentro la casa della salute gli over 60 anni tutti quelli che vogliono fare i vaccini non si capisce perché dovrebbe andare a peso quarto il potenziamento della casa della salute che è fondamentale per poter fare tutto quello che non è ospedale perché poi se no vanno a Pesaro a Dancona a Urbino piuttosto che farli andare a Morciana a Cattolica a Riccione a Rimini pagando una barca di quattrini e la regione per la mobilità passiva come si dice quindi ecco questi quattro obiettivi e una sensibilizzazione e un sollecito anche di una forza politica penso che sia importante io ho un dialogo continuo e costante con il presidente e gli assessori però fino adesso i risultati pochi spero che anche questa sollecitazione possa servire a dare una mano a risolvere i problemi in questi giorni vi abbiamo raccontato dell'ordinanza emessa dal comune di Mondolfo di non potabilità dell'acqua distribuita dall'acquedotto per gran parte del territorio comunale le indagini infatti condotte dall'ARPAM avevano segnalato la presenza di salmonella oltre i limiti consentiti vietando il consumo umano dell'acqua alle 14 di oggi però a seguito di ulteriori analisi l'ordinanza è stata revocata e dunque l'utilizzo dell'acqua per uso potabile è nuovamente consentito una lieta notizia per i cittadini ma anche per ristoratori e albergatori che per 62 ore hanno dovuto lavorare utilizzando centinaia di bottiglie di acqua minerale e da rubinetti che tornano a erogare acqua potabile passiamo invece a rubinetti che verranno chiusi infatti in seguito ai lavori di rinnovamento e potenziamento della rete idrica eseguiti da marche multiservizi a Pesaro in via Fratti nei prossimi giorni si proseguirà con le operazioni di collegamento alla nuova rete un intervento che comporterà per martedì 26 luglio un'interruzione dell'erogazione dell'acqua o dei cali di pressione dalle 8.30 alle 17 in via Giolitti dal civico 1 al civico 64 in via Belgioioso dal civico 56 al 96 e in via Madonna di Loreto dal numero 74 al 114 sta cominciando un altro weekend di temperature altissime e siccità persistente oggi però cerchiamo di capire anche dal punto di vista delle misurazioni scientifiche come sta cambiando il clima del nostro territorio e lo facciamo ascoltando il punto di vista di Alberto Nobili della Fondazione Clima e Sostenibilità Nobili che da circa 40 anni cura i dati e le rilevazioni dell'osservatorio Valerio di Pesaro Anche quest'anno abbiamo un'annata decisamente calda e siccitosa abbiamo un luglio attualmente sono passate un paio di decadi che sta a un grado sopra la media siamo intorno ai 25,9 invece dei 24,8 che è la media storica giugno già è stato più di due gradi sopra la media 24,9 rispetto alla media di 22,7 che è la media climatica degli ultimi 30 anni che già era superiore di circa un grado rispetto alla media del secolo scorso perciò siamo in progressione, continuiamo ad aumentare maggio, già anche maggio un grado e mezzo sopra la media 19,7 rispetto ai 18,2 praticamente siamo già a tre mesi di clima estivo e questo ce lo sentiamo questa anomalia dell'estate che comincia presto si era già verificata anche precedentemente negli due anni precedenti quello che sta cambiando veramente non sono tanto i picchi le massime assolute la massima assoluta di pesaro che è un 39,2 risale addirittura al 6 luglio del 50 e se ne sta lì tranquillo ogni tanto è minacciato adesso vedremo anche questo weekend che ci dicono che sarà torrido cosa succederà quello che sta aumentando o sta cambiando veramente il clima sono queste ondate di calore che sono sempre più frequenti e persistenti quello sì, stanno cambiando più che le punte le medie e quelle veramente cambiano il clima c'è da notare anche che abbiamo già raggiunto e superato 27 volte la temperatura massima giornaliera di 30 gradi la media normale dell'ultimo trentennio è di 12 perciò siamo già più del doppio praticamente è un mese d'estate in più abbondante mentre le temperature minime sopra 20 gradi che tecnicamente sono dette notti tropicali e già questo ci dà un'indicazione di come sta cambiando il clima sono anche loro state già 27 contro una media normale per questo periodo diciamo fino al 20 di luglio seconda decada di luglio di 15 negli ultimi 30 anni che sono già 30 anni caldi il secolo scorso la media per questo periodo era di 9 e qui vediamo la progressione di come sta aumentando questo caldo invece per quello che riguarda le precipitazioni si parla di siccità è sotto gli occhi di tutti si parla anche di piogge che si fatica a trattenere, immagazzinare fino a tre anni fa si guardava che le precipitazioni cambiavano il regime ma non tanto la quantità perché addirittura erano leggermente di più della media del secolo scorso o quanto la distribuzione mentre invece sono tre anni che sta decisamente calando anche la quantità specialmente nel periodo primaverile-estivo quest'anno attualmente siamo intorno a 223,8 siamo già a quasi 190 mm al di sotto di quella che è la media normale 190 mm alla pioggia di tre mesi abbondanti anno scorso lo stesso in questo periodo eravamo ancora a 225 mm sotto due anni fa 207 mm sono dati abbastanza simili che si stanno ripetendo ancora sono tre anni dicevo le medie climatiche si fanno su 30 anni e fino a qualche anno fa non avevamo ancora evidenziato nessun caldo di precipitazioni ma una diversa caromai distribuzione si andava verso i 20 magari i più concentrati maggiormente intensi mentre adesso c'è anche questo caldo di precipitazioni che ci preoccupa non poco perché alla fine dell'anno ci mancano due o tre mesi di precipitazioni e questo deficit si accumula nel tempo tenga conto che se guardiamo i sei mesi siamo già su una siccità moderata se guardiamo solo gli ultimi tre mesi la siccità comincia a essere anche severa e passiamo ad arte e cultura lo facciamo parlando del palazzo ducale di Urbino che ha appena inaugurato il secondo piano dell'edificio con più di 100 opere esposte nella Galleria Nazionale delle Marche un importante traguardo raggiunto in occasione dei 110 anni della fondazione della galleria come ci spiega il direttore Luigi Gallo in questo servizio il palazzo ducale di Urbino si amplia e si completa a 110 anni dall'istituzione della Galleria Nazionale delle Marche sono più di 100 le opere aggiuntive che il pubblico potrà osservare all'interno del museo dopo l'inaugurazione di 8 nuove sale espositive al secondo piano secondo piano che insieme al Torricino Sud era fino ad ora inaccessibile ma che da adesso è in grado di offrire un percorso nella storia dell'arte marchigiana mai presentato prima il museo ha un nome interessante si chiama Galleria Nazionale delle Marche quindi deve raccontare contestualmente la storia dell'arte nazionale declinandola a livello regionale e credo che la sfida di questo secondo piano sia stata proprio questa cioè riuscire a riannodare i fili tra maestri, scuole, scuole regionali all'interno di secoli importanti che sono quelli tra il 500 e il 700 quelli in cui le Marche danno molto alla storia della cultura italiana con artisti di calibro enorme naturalmente il 500 comincia con Raffaello ma si chiude con Barocci e proprio questo secondo piano voleva raccontare questo lo abbiamo potuto fare grazie naturalmente al lavoro dei nostri uffici all'eccellente lavoro dell'architetto Francesco Primari che lavora qui a Palazzo Ducale dell'ufficio degli storici dell'arte me compreso e con l'appoggio naturalmente delle ditte che hanno lavorato qui e grazie al deposito di opere della Cassa di Risparmio di Pesaro Nel 600esimo anniversario della nascita del Duca Federico da Montefeltro dopo un accurato intervento di restauro torna ad essere esposta anche la lunetta di Luca della Robbia alto rilievo in terracotta realizzato nel 1450 La lunetta anche quella è stata una cosa estremamente importante un'occasione importantissima perché la lunetta di della Robbia che quindi apre il percorso del museo al piano nobile è stata restaurata grazie al sostegno di Confindustria e in qualche modo è la prima opera che accompagnerà il rifacimento totale del piano nobile che comincerà nel mese di settembre quindi abbiamo chiuso una settimana fa il secondo piano e il primo settembre si comincia col piano nobile Luigi Gallo si è poi proposto dal mese di settembre come guida all'interno della galleria per cercare attraverso la sua conoscenza di dare maggior prestigio ad un museo già ricco di valore Prometto che a partire dalla prima settimana di settembre farò una volta ogni 15 giorni un appuntamento per chiunque voglia visitare Palazzo Ducale con me Ci siamo occupati spesso in tanti servizi del nostro telegiornale di caro benzina, caro gasolio, caro metano oggi invece siamo tornati ad un distributore di carburante per una novità alquanto sorprendente che andiamo a scoprire in questo servizio Vai a fare il pieno di benzina o di diesel e ti trovi il self service di carburante che ti parla in dialetto pesarese Tanti i cittadini che alle stazioni Eni come questa sulla Montelabattese nella quale ci troviamo ora tanti cittadini che sono a quanto stupiti nell'andare a fare il pieno e sentirsi un caccia dentro ai soldi dalla pompa di benzina Eppure è questa la singolare iniziativa che Eni ha deciso di portare su tutto il territorio nazionale 100 dialetti diversi distribuiti sulle varie province italiane Un'iniziativa sicuramente curiosa che sta regalando dei sorrisi dopo che andare a fare la benzina di sorrisi in queste settimane ne stava davvero regalando pochi E' una novità che abbiamo da pochi giorni e l'Eni ha deciso di praticamente fare questo servizio per rendere un po' più simpatico tutta la trafila che bisogna fare per fare il rifornimento presso una stazione di servizi e quindi magari dai la gente si diverte sentire anche i vari dialetti che ci sono in tutte le località adesso qui siamo a Pesaro quindi è pesarese La cosa curiosa è che la lingua locale è quella automatica poi se uno vuole l'italiano o l'inglese o il tedesco deve andare a digitarlo Sì certo inizia in dialetto perché questa volta è in dialetto poi dopo vabbè arriva un turista tedesco e quindi digita la lingua tedesca e quindi segue la procedura in lingua tedesca Un modo per sorridere dopo che sono stati i mesi in cui tuttora lo sono andare a fare il carburante non è che proprio dispensava sorrisi No ultimamente non era veramente divertente le lamentele erano tantissime però dai i prezzi stanno diminuendo il far rifornimento è divertente quindi speriamo che aumenti un po' anche la clientela Ti serve la ricevuta? Prenota l'ora Adè va a fare benzina e poi da te fai la ricevuta Va a prendere la pompa numero 1 E dunque come avete visto una novità alquanto sorprendente e divertente al momento del rifornimento di carburante Ora però cambiamo argomento perché è iniziato ieri il torneo di basket delle Cristo Re Memorial Michele Bacchini giunto alla sua ventesima edizione Il 4 contro 4 più famoso dell'estate cestistica pesarese vede per l'occasione in campo 39 squadre con oltre 220 partecipanti Il torneo proseguirà fino a domenica quando si giocheranno le fasi finali E domenica 24 luglio parte la terza edizione di Miralteatro d'estate L'anfiteatro del Parco Miralfiore di Pesaro sarà inaugurato dal duo norvegese dei Kings of Convenience che riprodurranno i brani che li hanno resi celebri in tutto il mondo Una serata all'insegna di grande musica per la prima di 12 serate di spettacoli della rassegna nata dalla collaborazione tra il comune di Pesaro e Lamat assieme ad ente concerti filarmonica Giochino Rossini e teatro Accademia E parte anche la trentesima edizione di Fano Jazz by DC e lo fa subito entrando nel vivo domani sabato 23 luglio con il concerto di Noah alla Rocca Malatestiana alle ore 21.15 La celebre artista israeliana aprirà Fano il tour celebrativo dei 30 anni di presenza sulle scene italiane con un concerto riepilogativo della sua fortunata carriera Al suo fianco ci saranno il chitarrista Gilles Dorda sempre prezioso partner artistico della cantante il pianista Ruslan Sirota e il bassista e sassofonista Omri Abramov Domani sera invece Vallefoglia si vestirà di bianco sabato infatti 23 luglio alle 19 ci sarà l'apertura di White Night 2022 La Notte Bianca organizzata dall'associazione Day and Night Events in collaborazione con l'amministrazione comunale L'evento dopo le restrizioni degli scorsi anni riparte con il coinvolgimento di tutte le attività commerciali che interesseranno le frazioni di Montecchio Bottega, Morciola e Cappone Da quest'anno dalle ore 19 saranno di nuovo attivi due autobus navetta gratuiti per dare la possibilità di muoversi in sicurezza E continua il ricco palinsesto di eventi dell'arena BCC di Fano Oggi il nostro Paolo Pagnini ci fa sentire dagli amici del San Costanzo Show il prossimo particolare appuntamento di lunedì 25 luglio Il 25 luglio che giorno è lunedì mi sembra? Si comincia a ridere alle 6 della mattina vero? Si ride Si ride Poi alle 9 si arriva qui e niente si ride Alle ore 21 Che ore è? De quanto? Lunedì 25 luglio con il San Costanzo Show Ma perché ce ne sei? Come ce sei? E cazzo io te c'è le termine di Patugnes alla zona rosa Ma che è la zona? La rosa della cecca la rosa della cecca è qui insieme a Orietta Pedotti il 25 è all'arena BCC vi aspettiamo Ma vai far comprare il costume per niente perché ho comprato anche il tango Andate dopo prendete il taxi a mezzanotte e andate a Paturnia a Paturnia vi aspettiamo il 25 lunedì risate a crepapelle E dunque si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che in questo venerdì 22 luglio alle ore 21 e 20 vi propone il nostro speciale realizzato ad Urbino a Palazzo Ducale di Urbino in occasione della conviviale estiva di Confindustria Peso Urbino occasione nella quale lo vedete in grafica è stato anche conferito il sigillo d'Ateneo dell'Università all'imprenditore e industriale Alceste Vitri a seguire alle 21 e 40 un nuovo documentario del Cine Club Pandolfi due opere allo specchio con la scrittrice giornalista Giuliana Poli che metterà a confronto in questo spazio due grandi operi come La Pietà di Michelangelo e Il Cristo Velato di San Martino e poi Vox Pop la voce dei pesaresi per chi si fosse perso la prima edizione alle 19 la nostra prima replica è questa sera alle 22 e 30 con estate 2022 andiamo a conoscere che cosa faranno in queste vacanze i cittadini pesaresi l'informazione su Rossini TV poi torna puntuale domattina alle 7 e 20 rigorosamente in diretta con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato e domani a tenervi compagnia sarà proprio il nostro Antonio Astuti ed è davvero tutto per questa edizione delle telegiornale Rossini News vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi e un buon weekend per averci seguito